Sì, grazie Presidente. Io intanto voglio fare un brevissima premessa di metodo, nel senso che nella scorsa sua di martedì avevamo proposto di trattare e approfondire comunque il tema sia in commissione che nella conferenza dei presidenti dei gruppi tematica. Devo dire che lo ritengo sia stato utile, anzi ho apprezzato anche i toni comunque molto pagati e costruttivi dei consigli di opposizione su un tema sul quale è facile fare speculazione. Ritengo la commissione venerdì sia stata utile perché abbiamo comunque avuto qualche dato in più. Torno un attimo brevemente a riepilogare le motivazioni che ci hanno portato a ripristinare la sosta tariffata e anche un pochino le differenze con la ZDL, perché vorrei subito sgondare il campo su questo. Sono due misure diverse che chiaramente sia la ZDL che la sosta tariffata le possiamo, diciamo così, ascrivere alla stessa famiglia di interventi, ma sono misure diverse. Chiaramente il nostro obiettivo in questa fase 2 era, come stanno facendo praticamente tutte le città italiane e tutte le città europee, evitare che tutti tornassero ad utilizzare il mezzo privato, ad utilizzare l'automobile, perché questo significherebbe congestione, significherebbe traffico, significherebbe caos e non sarebbe una risposta efficiente. Quindi abbiamo deciso di riattivare la sosta tariffata per, da una parte, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato e dall'altra garantire la necessaria rotazione degli spazi. Questo è un principio fondamentale che ribadisco ogni volta. Io consiglierei, proviamo tutti a fare un esperimento, diciamo così, mentale e facciamo finta che la sosta tariffata sia ancora gratuita. Questo significherebbe che tutti la mattina, anche chi magari era indeciso, si metterebbe in automobile per recarsi nelle aree centrali della nostra città, che poi ricordiamo la sosta tariffata non è solamente il centro storico, non è solamente il primo municipio, sono tanti altri quartieri limitrofi. Se tutti decidessero di mettersi in automobile, anche quando magari potrebbero farne a meno, questo significherebbe traffico, significherebbe congestione, significherebbe arrivare a destinazione in tempi abbastanza lunghi. Ma poi un altro aspetto ancora più importante, una volta arrivati a destinazione sarebbe quasi impossibile trovare parcheggio, perché chiaramente se la sosta fosse gratuita, chiunque sarebbe portato a lasciare l'automobile in quegli spazi più del tempo necessario. Quindi a questo punto chi ne avrebbe veramente bisogno di arrivare con l'automobile in quelle zone, non troverebbe spazio perché, data la gratuità della sosta, tutti sarebbero portati a utilizzarla per il tempo oltre il tempo necessario. Questo ci è stato confermato anche venerdì dai dati di ATAC che ci hanno detto come in questo periodo, in questa prima settimana, diciamo così, l'utilizzo medio degli stalli di sosta tariffata è stato quello di due ore, ovvero proprio il principio che richiamavo poc'anzi, cioè che gli spazi vengono utilizzati per un tempo stretto, strettamente necessario, e poi lasciati a chi ne ha bisogno. Questo è il principio che sta alla base della sosta tariffata e consente a chi per forza, per necessità deve utilizzare l'automobile di poterlo fare. Se la sosta fosse gratuita tutto questo non sarebbe assolutamente possibile perché tutti sarebbero portati a lasciare l'automobile più del tempo dovuto. Quindi questo diciamo in termini trasportistici. In termini economici non voglio fare i punti in tasca a nessuno, ci mancherebbe tutti, comprendiamo il difficile momento che la città sta vivendo ma va anche detto che la sosta tariffata a Roma ha un sistema, diciamo così, molto, molto agevole, molto vicino ai cittadini. Io menziono sempre tante altre città italiane, non voglio neanche fare il confronto con altre città europee, ma tante altre città italiane, anche con meno infrastrutture del trasporto pubblico di noi, hanno un sistema di tariffazione soprattutto per le aree centrali che va dai 2 ai 3 euro l'ora. Ovviamente non esiste l'abbonamento di 4 euro che esiste oggi a Roma giornaliero, non esiste l'abbonamento di 70 euro mensile che esiste oggi a Roma. Quindi già a Roma c'è un sistema tariffario molto vicino ai cittadini, poi sapete come la penso nella mia visione, magari anche troppo, ma ovviamente non è questa la sede per parlare. Quindi anche l'impatto economico nei confronti dei cittadini è un qualcosa che difficilmente può stare in piedi. Quindi dicevo questo insieme di misure le alternative che stiamo costruendo all'automobile privata, perché non dimentichiamoci mai che io, noi riteniamo che questo momento di crisi è terribile, devastante, per carità, ma deve essere l'occasione e probabilmente l'ultima che abbiamo per ripensare completamente le nostre città, per ripensare completamente i nostri spazi, per ripensare completamente le modalità di lavoro e le modalità di spostamento. Quindi non ci siamo sentiti di incentivare l'automobile privata e abbiamo ripristinato questa misura dall'altro canto dando tante alternative e ricordando ogni volta, lo farò anche questo sempre, che oltre il 55% degli spostamenti a Roma sono spostamenti brevi, sono spostamenti sotto i 30 minuti, sono spostamenti che possono essere coperti anche con modalità alternative all'automobile privata, soprattutto nelle aree più centrali che sono quelle che sono interessate dalla sosta tariffata. Ancora una volta, e poi chiudo, la differenza con la ZTL è importante perché nel disincentivare il mezzo privato, l'impatto della sosta tariffata è molto più importante rispetto a quello della ZTL, la sosta tariffata incide su molte più aree e su molti più potenziali utenti rispetto alla ZTL che dal punto di vista della lotta, passate mille virgolette, alla congestione stradale e al traffico, la ZTL ha un impatto molto più moderato e soprattutto ancora, forse speriamo, dal 18 maggio un pochino cambierà, ma ad oggi la zona della ZTL centro storico non è ancora un attrattore perché la maggior parte degli uffici sono i smart working e la maggior parte delle attività commerciali, ahimè, sono ancora chiuse. Quindi chiaramente quando riprenderà ad essere un attrattore il centro storico, sicuramente andrà fatto un ragionamento anche sulla ZTL. Io ho concluso, spero di non essere andato troppo oltre i tempi, però ci tenevo a precisare alcuni concetti e poi lo ribadisco, veramente non è di rito, ma voglio comunque ringraziare i consigli di opposizione perché sul tema sono stati molto costruttivi, noi come maggioranza abbiamo fatto delle proposte alternative anche in commissione, ma che poi si sono rivelate di difficile attuazione, quindi insomma siamo qui compatti ad esprimere questo pensiero. Grazie Presidente.